salve a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti a questo nuovissimo video io sono tascrivonoci altrimenti e oggi siamo qui su overwatch per fare una partita con un eroe che ho letto tra i commenti ma con chi esattamente con soldato 76 signori miei guarda guarda che faccio le flessione ti piace? oh Lisa oh che troller non c'è nato vai 29 non so se vai ok raga oddio cosa? oh eliminata dai 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 muoviamoci la nazione gente guardatevi qua ma sono ancora nella sua portata come faccio io? ragazzi e come secondo te eliminata toletta nemica eliminata ok oh ti ringrazio conquistiamo l'obiettivo signori oddio caigo il movimento no no nooo no per fortuna però grande ti ho lemminino vabbè due kill ahahahah guarda come fai bello ce l'avanzo dietro io non me ne ho accorto guarda la testardagine mia c'è uno che chiede sì non è sicura l'altro dice l'aduna o decidi o cure o adunata oddio devo scappà ti prendo no non l'ho preso come fa a prendermi come se fossi in un posto fisso e se ti prendo a scatenare la quale scenza ma il problema è quando l'ho mancato no c'è sempre tobbio che lo ripara guarda che testardo va vabbè come dico e dite a tunata 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 però sedete sedete guarda 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 sono l'unico migliore il livello 91 254 163 ma qui la facci nel nodo alto che io stesso alto che io solo ma io solo non posso fare quasi niente solo io non può essere suca vai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vediamo se io non avevo voglia di affrontarmi eh ti ho detto non mi devi mai affrontare ok c'è qualcuno appunto c'è torbion di sicuro qua cazzo anzo ecco eliminato vai guardatevi qua cazzo passione merda oh eliminato dai dai carica caricati la special medikit lo prendo sentiamo qua sono rimasto secco ci rimango secco oddio ti ho ucciso mentre facciamo i ulti una certa distezza di fa oddio ti ringrazio ma ti ringrazio davvero guarda 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 che quanto sono testardo io guarda gli faccio una sorpresa ce la faccio ovviamente eliminato dove torbion eliminato guarda guarda provate a fermarmi idioti dove torbion dai pittoria dai vittoria ottimo raga la pioff di che sarà di anzo presumo appunto ma è alleato nostro no no non è nostro è nemico appunto è nemico lo credo dalla tuta raga bravo e guarda ci sono vittime pure io raga 23 eliminazioni 50% partecipazione buono 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 questo un duro allenamento fatto con soldato 76 raga un durissimo allenamento con soldato 76 abbiamo fatto 23 uccise di solo 3 morti e ci portiamo un bronzo 200 e 1 oro sufficiente sufficiente ora passiamo alla prossima partita di nuovo ad heikenwald sul serio 20 e 20 noi ci prendiamo i soldi eh questo è questo da screen buy c'è raga io a pare mio sarà uno questo qua è il numero 16 chiusa che sarà uno molto forte che sta usando un altro account ormai su over c'è così è per farti illudere dire mira questo livello basso è bravissimo invece no raga sono semplicemente raga se vedete uno di livello di 1 che livello ah oh cavolo non è nientato che un giocatore di livello 100 200 che sta usando un altro account per far credere di essi livello molto basso che aveva già iniziato però è bravissimo ciao brighitt te piace se te faccio il culitino te piace il culito te piace il culito ciao riven riper 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 riperino di pedino di pedino dove sei di pedino sei salito no sei qua no oddio con un colpo mi ammazzano ho bisogno di cura appunto credete che quelli di livello 20 e così via sono così bravissimi con certi personaggi dovete sapere che sono non tanto che persone molto molto brave di livello di livello 100 200 o 400 e qualcosa e praticamente usano un secondo account di livello molto molto basso per far che li avrebbero iniziati eppure sono bravissimi è solamente un'illusione raga è un'illusione no mi ha chierato mi hanno chierato ti guarda che vergogna ma i miei compagni si si grande dove c'è chi no visto e tu perché ti ciao manzino ciao dai vieni 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 ha ha pronto e pronto mi sono salvato hai bisogno di cure aspetta che vengo tiene c'è Genji ah ora come fai ora vediamo guarda lo giro c'è qua ah l'ho beccato appunto no 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 fai bene non puoi fare quasi niente da ronfist no stanno girando da quella parte ho sbagliato io ciao ciao di pelino raga generatore biotico con soldato se viene messo i punti giusti ti permetto di vincere sconti impossibile dai ah ah pensavi di vincere questo scontro guarda io ho fatto un due alleamento con soldato quindi proprio arriva aspetta vedo Guido maker Ma quando ero fatta adesso? Sono già 14 kill raga Eliminato Dai 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 no Mi hai nominato le kill Ti piace quando uno rovina i kill? Pensa se uno te la rovina a te Pensa un po' se qualcuno te la rovina a te Pezzente Abbiamo vinto raga Abbiamo vinto Raga abbiamo vinto di nuovo La prof te game sarà di qualcun altro Non sarà per forza mia raga Per niente Io ho vinto Questo è il nostro raga Questo è il nostro Sono l'unica a pensare che la skin di Anzo Quella giovane fa È bruttissima Ma è bruttissima Ma chi se la prende? L'unica carina è quella Okami Oppure i Boku Quella che ho io Comunque ragazzi Due partite fatte Buona prestazione Entrambe Comunque ragazzi Il video si concludete qua Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Se l'avete già fatto Commentate e mettete like Iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Commentate qui sotto Ovviamente Se con quale eroe Volete che io usi Per le due partite E niente Con questo vi saluto Bella ragazzi E noi ci vediamo